Salve amici del segreto, in questo video andremo a vedere un libro molto importante di Alan Watts intitolato Il libro sui tabù che ci vietano la conoscenza di ciò che veramente siamo. Questo è un libro che vi aiuterà molto a stabilire un profondo collegamento con il vostro spirito. Spesso parliamo di quante distrazioni ci siano oggi nel mondo e di come possano impedirci di vivere nel presente e di connetterci veramente con le persone che ci circondano. Già negli anni 60, quando non c'erano annunci pop-up e notifiche sui social media, Alan Watts pensava che le persone intorno a lui non riuscissero a connettersi tra di loro come esseri umani ed affrontare le questioni più importanti della vita. Infatti che si cerchi di lottare per capire il proprio posto nell'universo e trovare una realizzazione spirituale non è una novità, così le parole di saggezza che Alan Watts fornisce sono ancora oggi rilevanti, forse più rilevanti che mai. Il suo messaggio è un messaggio di connettività e non solo con i nostri simili ma con tutto ciò che è stato creato. Dopotutto le stesse forze che hanno creato anche l'erba, gli alberi, gli animali, eccetera, sono le stesse che hanno creato anche noi, quindi siamo tutti collegati tra di noi e prima le accettiamo e meglio sarà. Ora è il momento perfetto per tuffarsi nella sua filosofia rinfrescante e iniziare a vivere una vita più appagante. In questo riassunto del libro scoprirete uno sguardo riguardo l'antica saggezza della Vedanta, quale linguaggio ci può dire qualcosa riguardo le percezioni della gente e perché l'inevitabilità della morte non deve essere motivo di preoccupazione. Cominciamo subito. Nella società occidentale rimangono pochi tabù, se non la verità su ciò che significa essere umani. Man mano che la società si sposta da una generazione all'altra tendiamo a liberarci dei tabù lungo il cammino. In molte società il sesso era il tabù principale, in Giappone le famiglie erano troppo imbarazzate per parlare apertamente di questioni sessuali e alle giovani coppie appena sposate veniva tradizionalmente regalato un libro di cuscini per la luna di miele che conteneva i dettagli delle posizioni sessuali e faceva sapere alla coppia tutto ciò che doveva sapere riguardo all'atto sessuale. Nella cultura occidentale di oggi il sesso non è più un tabù, invece lo si può trovare usato sui cartelloni pubblicitari per vendite di prodotti e può essere anche citato nella maggior parte delle canzoni pop. Ma un tabù importante è rimasto ed è la discussione su cosa significa essere umani. Spesso il modo in cui definiamo e comprendiamo noi stessi come essere umani è sbagliato. Pensiamo che ogni persona sia un organismo unico che vive una vita completamente separata da quelle degli altri e dell'ambiente. Questo fraintendimento del nostro posto nel mondo è evidente nel modo in cui parliamo. Frasi come siamo venuti al mondo o una persona che deve affrontare la realtà suggeriscono che ci vediamo come appartenenti a un mondo completamente distinto e unico o ad un'altra realtà. Ma tutto questo è un'illusione secondo Watts e un autoinganno da parte nostra. La verità è che siamo nati dal mondo e non in esso. Come l'oceano crea le onde, così il pianeta Terra crea l'uomo. Mentre ogni onda è un movimento che avviene sulla superficie dell'oceano, non è separata dall'oceano o creata in modo diverso da un'altra onda, lo stesso vale per ogni persona sul pianeta. Tuttavia continuiamo a pensare a noi stessi come individui unici e indipendenti. Successivamente esamineremo ancora più da vicino i modi in cui inganniamo noi stessi. Gli esseri umani hanno a lungo ignorato la verità sull'identità perché la mente razionale non riesce ad afferrarla. Se si considerano i grandi pensatori che hanno cercato di andare a fondo studiando l'identità umana, si potrebbe pensare a Freud o Jung e alle loro ricerche innovative sulla mente inconscia. Tuttavia questi psicologi, così come la maggior parte delle persone nel corso della storia, hanno ignorato una verità fondamentale sull'identità umana. E secondo Watts questa verità è così semplice che è difficile anche solo esprimerla a parole. I tedeschi hanno una parola, per verità, hintergedanken, questo è qualcosa che tutti conoscono intuitivamente e su cui tutti sono d'accordo ma che non amano pensare. Tuttavia la cultura popolare ha contribuito a sostenere l'idea egocentrica dell'individuo robusto come un puntino solitario nell'universo. E ora questa nozione è così forte che può sembrare impossibile da accettare che un individuo non è solo una goccia d'acqua nell'oceano ma siamo parte di un intero universo di energia responsabile della creazione di tutto, compresi gli esseri umani, i campi di energia nucleare e lo spazio esterno. Pertanto la nostra vera identità è ciò di cui parliamo quando diciamo io. Sono le vibrazioni energetiche che fluiscono dentro e fuori e continuano ad assumere molte forme. Sì, questo non è esattamente un concetto facile da afferrare per la mente razionale o intellettuale e questo è uno dei motivi principali per cui continua ad andare in gran parte inosservato. Cercare di capire intellettualmente cosa significhi io è molto simile a cercare di guardare i propri occhi senza uno specchio. È impossibile. Oppure, se ti guardi allo specchio, è come cercare di determinare di che colore è lo specchio. Si possono vedere foglie verdi o un cielo blu, ma questo non significa che ciò che stiamo guardando riguarda lo specchio in sé. Perché sono oggetti che si riflettono nello specchio. Tuttavia c'è uno strumento utile per comprendere in parte l'identità umana e questo è il concetto di Dio. Quando si pensa a Dio, molti immaginano un'entità oniveggente che vive nel cielo e ha il potere di controllare tutto. Eppure nel corso dei secoli ci sono state molte altre idee su cosa sia Dio. Nell'antica India molte persone hanno seguito la filosofia hindu della Vedanta che insegna che Dio è ovunque e fa parte di tutto piuttosto che esistere in qualche regno separato. I testi della Vedanta sono chiamati Upanishad e contengono dialoghi, poesie, storie che risalgono al 800 a.C. e si offrono uno sguardo rivelatore su come un'antica civiltà vedeva il divino. Poiché gli hindu in questo momento riconoscevano Dio in ogni cosa, in ogni persona, essere un'espressione di Dio non era qualcosa di cui essere orgogliosi o qualcosa che ti distingueva. Piuttosto sapere che Dio poteva essere trovato in tutto il resto del mondo dava alle persone un forte incentivo ad essere rispettose delle altre persone e degli altri animali, anche delle piante e dei minerali. Tuttavia quando si tratta di raggiungere l'illuminazione spirituale riconoscere Dio in tutte le cose non è un mezzo per raggiungere un fine. Secondo la Vedanta ciò deriva dall'esperienza della presenza onnipervasiva di Dio e questo non è qualcosa che si può forzare o far accadere, anche se la meditazione è nota per avvicinare le persone ad essa. Come si può immaginare, sperimentare la presenza di Dio è un'esperienza che cambia la vita e cambia la percezione. Si tratta di un'esperienza che pochi hanno realmente vissuto. È il tipo di esperienza che probabilmente Gesù ha avuto e quella a cui si riferiva quando diceva quando farete in modo che due siano uno e farete sì che l'interno sia come l'esterno e l'esterno come l'interno e l'alto come il basso e quando farete del maschio e della femmina una cosa sola così che il maschio non sia più maschio e la femmina non sia più femmina allora entrerete nel regno. Possiamo interpretare questo come il modo che Cristo usò di usare e di dire che quando si riconosce che tu e il mondo siete una cosa sola e cominciate ad unirvi al mondo che vi circonda allora potete sperimentare l'illuminazione. Siamo fuorviati nel credere nell'illusione di causa ed effetto tendiamo a pensare a molte cose in termini binari c'è luce o buio, suono o silenzio c'è una relazione binaria particolare a cui siamo molto affezionati però ed è quella causa ed effetto questa è la convinzione che tutto ciò che vediamo e tutto ciò che accade è il risultato di qualche altro evento precedente ma se questo fosse davvero il caso significherebbe che non abbiamo la libertà di scelta perché ci sarebbe sempre qualche evento precedente che fa accadere quello attuale questo significa che reagiamo sempre e non prendiamo mai una decisione che non sia influenzata da qualche altra decisione piuttosto folle, vero? ciò nonostante ci addentriamo nel concetto e perseguiamo con una visione restrittiva del mondo come se lo vedessimo attraverso un piccolo buco in una recinzione pensatela in questo modo se non avete mai visto un gatto prima ad esempio ma un giorno state guardando attraverso un piccolo buco e improvvisamente vedete passare la testa di un gatto poi un secondo dopo vedete il corpo del gatto e poi la sua coda se continuate a guardare probabilmente il gatto passerà di nuovo e vedrete la stessa sequenza prima la testa poi il corpo ed infine la coda sottoscrivendo la teoria della causa e dell'effetto si potrebbe pensare che un evento causi l'altro così quando appare la testa fa arrivare la coda poco dopo ma questa è una sciocchezza non è causa ed effetto la testa e la coda fanno parte della stessa cosa dello stesso corpo perdiamo così tanto tempo a cercare di smontare le cose e a chiederci perché succede qualcosa che finiamo per perdere la percezione di quello che stiamo vedendo è meglio vedere tutto come parte dello stesso universo secondo Watts quando si aprono gli occhi per cogliere il quadro generale e riconoscere il mondo come un unico organismo interconnesso ci si risparmia un sacco di confusione la nostra prospettiva limitata e la nostra attenzione creano l'illusione che la vita debba essere in un modo o nell'altro per capire come vedere il quadro generale ha senso prima capire perché e come ci si perde nei dettagli per cominciare guardare qualcosa è un processo attivo perché ci sono sempre cose diverse da notare anche quando fanno parte dello stesso oggetto quindi non è solo un fiore ci sono le radici l'ostello i petali insieme ai diversi colori e così che funziona anche la nostra attenzione è un processo di selezione o di scelta di ciò su cui ci concentreremo esattamente dopo aver deciso su cosa concentrarci dobbiamo poi documentare le nostre scoperte e per farlo abbiamo bisogno di un sistema simbolico come la scrittura per dare una rappresentazione accurata studiando le parole disponibili in diverse lingue e la profondità del vocabolario di una persona possiamo vedere quanto è perspicace questa persona e a cosa presta attenzione il famoso esempio è rappresentato dalle varie lingue inuit che hanno un'abbondanza di parole per descrivere diversi tipi di nevicate ha senso che le persone nell'artico prestino più attenzione alla neve e quindi abbiano un vocabolario più ampio rispetto alla lingua italiana i giapponesi hanno lo yugen che descrive la sensazione di vagare senza meta in una foresta la lingua italiana non ha una traduzione per questa parola il che suggerisce che noi non ci accorgiamo particolarmente di questa sensazione o per lo meno le diamo molto molta meno attenzione rispetto ai giapponesi ciò che è chiaro è che la nostra attenzione è selettiva e crea l'illusione che la vita sia fatta di opposti e di scenari ad esempio la logica comune dice che di giorno c'è solo luce mentre di notte c'è solo buio ma in realtà c'è luce e buio in abbondanza non importa quale sia l'ora è solo una questione di percezione di ciò che siamo in grado di riconoscere durante il giorno ci sono più onde luminose così tante che non riusciamo a cogliere consapevolmente l'oscurità che le separa ma è ancora lì così come c'è ancora molta luce durante la sera quindi non c'è motivo di pensare al giorno e alla notte come a degli opposti pensateli invece come due parti della stessa cosa alcune culture e religioni ci fanno temere la morte ma possiamo trarre vantaggio dall'abbracciare l'inevitabile la morte è un altro persistente tabù nella società occidentale nessuno vuole parlare della morte e nemmeno pensarci se dipendesse da loro la maggior parte delle persone rimarrebbe eternamente giovane si potrebbe pensare che sia comprensibile avere paura della morte ma la vera ragione per cui ci si spaventa è dovuta al modo in cui è presentata nelle religioni occidentali wadz dice il cristianesimo è responsabile dell'idea popolare che la morte è seguita da un giudizio finale in cui chiunque non abbia vissuto una vita impeccabile può ottenere un biglietto per l'inferno ma la visione del paradiso della chiesa non è esattamente il paradiso qui si suppone che un dio con la barba ci sorvegli in ogni momento e la cosa più divertente del paradiso è suonare l'arba e cantare gli inni la maggior parte delle persone pensa che l'unica altra opzione sia l'ateismo o il nulla e dato che nessuno di questi due scenari è particolarmente confortante non è certo un shock che le persone temano la morte o che i medici e gli amici continuino a cercare di rassicurare i pazienti sul fatto che non moriranno tuttavia ci sono scenari alternativi che non sono state accettate dalle culture occidentali in questi la morte ci offre una porta per la crescita spirituale quindi in questi sistemi di credenze un paziente malato potrebbe invece essere incoraggiato ad affrontare la morte con la consapevolezza che si tratti di un'opportunità e un'opportunità per lasciare andare l'ego e l'identità che si credeva essere così speciale il maestro spirituale greco dei primi del ventesimo secolo Gurdjieff credeva che le persone avrebbero tratto grande beneficio dall'avere un costante ricordo dell'inevitabilità della morte non solo per la loro vita ma per la vita di tutto ciò che le circonda dopo tutto l'unico momento in cui le persone tendono a lasciare andare il proprio ego è quando sono alle porte della morte quindi è in questo stato d'animo che le persone possono vivere come il loro vero sé come parte di un universo con un Dio infinito e senza fine il nostro universo sta cambiando rapidamente il nostro modo di vivere ma la presenza di Dio rimarrà costante c'è una buona ragione per cui la fantascienza è così popolare ci dà la possibilità di scoprire universi paralleli e di esplorare lo spazio dove le possibilità sono infinite ogni giorno non sembra arrivare con nuove scoperte scientifiche quindi la domanda che molti si pongono è che cosa c'è in serbo per gli esseri umani in un certo senso la tecnologia ci renderà più connessi già ai tempi dell'autore grandi quantità di informazioni provenienti da tutto il mondo erano disponibili direttamente nelle case delle persone grazie ai televisori che si trattasse di una sbirciatina in una cultura straniera di un evento sportivo o di un concerto musicale la televisione e la radio davano alla gente la possibilità di viverla indirettamente l'autore credeva che questo nebuloso impegno elettronico avrebbe continuato ad ampliare la portata degli esseri umani avrebbe permesso loro di connettersi con le altre persone in uno spazio virtuale senza nemmeno uscire di casa potevano connettersi alle cose di cui avevano bisogno e comunicare direttamente con le persone che volevano incontrare e se avessimo continuato su questa strada pensava l'autore pensava che sarebbe stato possibile che la razza umana alla fine assomigliasse ad un organismo colossale con un sistema nervoso centrale condiviso l'autore ha offerto una sorta di avvertimento man mano che il nostro mondo diventa sempre più interconnesso gli esseri umani sono destinate a diventare più omogenei perché tutti vivranno la stessa esperienza di vita virtuale inoltre è naturale che la privacy scompaia tanto che i nostri pensieri potrebbero non esistere più e magari non essere più nostri apparterranno invece ad una mente alveare incredibilmente potente e tecnologica ma anche se il progresso tecnologico sembra fuori controllo e preoccupante si può trarre conforto nel sapere che Dio è ancora presente in tutto ciò che è stato creato ricordate l'universo è tutto ciò che è in esso è un gioco che Dio ha ideato e se le persone rendono tutto troppo omogeneo prevedibile e controllato allora il cambiamento è destinato ad arrivare nessuno compreso Dio vuole fare un gioco noioso quindi è probabile che Dio trovi nuovi modi per essere riconosciuto ricapitolando quindi l'autore sostiene che la maggior parte degli esseri umani sia ancora guidata dal proprio ego e quindi gli piace pensare di essere individui speciali e unici separati dal resto dell'universo questo pensiero è non solo sbagliato ma anche molto insoddisfacente dal punto di vista spirituale quindi dobbiamo accettare la realtà che siamo tutti parte dell'enorme universo di energia che ci ha creato e di tutto ciò che ci circonda una volta che iniziate a connettervi con il mondo vi avvicinerete alla vostra vera identità Watts consiglia di non prendere le cose troppo sul serio avere umorismo ed essere in grado di ridere di se stessi è una delle abilità essenziali in un mondo che è necessariamente essenzialmente un gioco a nascondino con il Signore lui lo considera proprio così il mondo è un gioco a nascondino con Dio quindi ogni volta che è possibile siate sicuri di rilassarvi la verità come la sperimentiamo è molto relativa e soggettiva quindi non vale la pena essere troppo coinvolti in quello che si percepisce questo era il libro sui tabù che ci vietano la conoscenza di ciò che siamo veramente di Alan Watts un libro che vi aiuta ad adottare la filosofia hindu dei Vedanta e a capire meglio la nostra esistenza spero che il video vi sia piaciuto vi ringrazio della vostra attenzione ci risentiamo nei prossimi video ciao